Stavo guardando questa intervista di Marchetto Zuckerberg sulla realtà aumentata, realtà virtuale, tecnologia, gadget, eccetera, con Mark e Brawley. Mark e Brawley sapete, però trovo anche intervistato Mark e Brawley ai tempi su suggerimenti di mio figlio Iari, ma era ancora abbastanza sconosciuto e oggi è diventato il canale YouTube più grande di tecnologia che c'è nell'universo. Parlavo con Mark. Realtà virtuale, realtà aumentata, molto interessante, perché arriva il prossimo paradigma tecnologico, il prossimo anno, parliamone. Prima di andare avanti, scusa per l'interruzione, ci tenevo però a ringraziarti per il fatto che hai deciso di seguire questo video e magari segui altri video e se ti interessa seguire altre cose ti segnalo tre iniziative che sto facendo. AskMonti.it, se vuoi fissare una call su Zoom o mi vuoi mandare un vocale. Competenze.online, www.competenze.online, se vuoi esplorare una nuova competenza, vuoi un punto di partenza autorevole per magari imparare a parlare in pubblico, a fare video, a matematico o altro. E ovviamente 4Books, che è un'app meravigliosa che ti riassume le migliori idee di business, 4Books.com. Enjoy the video. Allora facciamo così, lasciamo da parte un attimo la realtà virtuale. Quella arriva, diciamo, tra 5 anni, 10 anni, c'è una serie di casini la realtà virtuale. Per quanto faccia delle belle cose, per quanto ad esempio ho visto nella demo che hanno fatto a Facebook Connect, che è l'evento, quello sulla realtà virtuale, che hanno appena fatto, ho visto la demo, quella dell'ufficio, che è carina. In pratica metti il visore su e anche se non c'hai schermi, non c'hai niente, ti crei un ufficio virtuale. Ci smanetti, colleghi la tua tastiera vera con l'ambiente virtuale e ci smanetti. E quello, diciamo, è un aspetto interessante. Oppure videogame, oppure se ti vuoi sparare Netflix in un robo virtuale che dici, perché dovresti usare un robo virtuale, però se vuoi ci sono delle esperienze. Oppure, diciamo, nel mondo più business, dove puoi utilizzare la realtà virtuale per fare delle applicazioni specifiche, precise, magari legate alla medicina o gli impianti, la manutenzione. Cioè puoi fare tante cose. Quindi non neghiamo che ci sia già un utilizzo oggi, ma per arrivare a un utilizzo di massa ci vogliono anni. Marchetto l'ha detto dopo cinque anni, dieci anni, non lo sanno neanche loro. Però sono partiti, dobbiamo riconoscere a Marche, con grande anticipo, grande voglia, grande interesse. Ecco, secondo me questa è una cosa che a lui piace. Il nuovo paradigma tecnologico. Quale sarà? Comprarono Oculus, hanno messo i due miliardozzi su Oculus, e di lì hanno continuato a sviluppare e annunciano i nuovi visori, più leggeri, bleh bleh bleh. Però non è quella la parte che a me interessa. La parte che mi interessa è la cash key. Occhialetto, in realtà aumentata, che loro il prossimo anno buttano fuori. Ci sono loro e, se volcifera, c'è anche Apple, che butta fuori l'occhialetto in realtà aumentata. Loro lo faranno, immaginiamo, con il buon del vecchio, Luxottica. Abbiamo visto Ray-Ban Facebook, quindi deduciamo che fanno un accordo di quel tipo. Loro mettono tecnologia e la Luxottica di turno mette l'esperienza nel mondo degli occhiali. Perché questa roba degli occhiali è così interessante? Perché in passato, già Google, vi ricordate, era uscita con i Google Glasses e dicevi che merda che sono, perché alla fine tutti li mettevano gli addetti ai lavori. Ma erano orrendi, erano inusabili e alla fine non hanno funzionato per il mercato di massa. Ma l'idea di un occhialettino che ti metti così, che è figo, che è carino, che ti dà il visorino con le informazioni aggiuntive, che mi lascia nella mia realtà normale, diciamo, nella realtà primaria, però me la aumenta, dandomi più informazioni, facendomi vedere degli ologrammi, facendomi vedere informazioni rispetto al posto che sto guardando. Dico, oh, ma che è quella roba lì? Tling! È una gelateria. Ah, no, bastava leggessi. A questo punto diventa interessante, perché è un oggetto carino, figo, fatto bene, ti senti anche un po' Iron Man e allora quella roba può funzionare. Vi faccio notare che Facebook cerca disperatamente quella parte lì, perché vuole un sistema operativo, vuole essere a capo di tutta la piattaforma, non vuole fare solo l'app che poi dipende dall'Apple Store o dal Play Store di Google, per cui ci puntano un bel po' un bel po'. Dall'altro lato Apple è messa bene, perché avendo l'iPhone non ha l'obbligo di picchiare dentro all'occhialetto tutta la tecnologia che serve per farlo funzionare, che non è banale se ci pensate. Fare degli occhiali in realtà aumentata, che funzionino davvero in modo semplice, efficace, senza problemi e siano poi anche utili, perché a parte metterli su poi devono essere utili, perché se no perché li mettere su se non funziona? Farli funzionare bene in tutte le condizioni, se cambia banalmente la luce, se sei all'ombra o se sei al sole, se cambia la temperatura, se cambia il livello di connessione, come funziona quell'oggetto lì? Non è facile. Però il primo che ci arriva, se Apple o Facebook o Microsoft o chi per loro, o Tesla o non so chi, a quel punto effettivamente diventa un prodottino. Ecco, a quel punto quello è il prodotto che arriva ogni 15 anni del nuovo paradigma tecnologico. Zuckerberg con Mark e Brawley è molto fiducioso su questo tema e puntano su quello. E non è un cambiamento banale, perché se io metto questi occhialetti, scusate, vorrei dirvi che questi sono i veri occhiali in realtà, lì sono in vendita sul mio sito, su Monty Store, per 30 euro, eccolo. Questi occhialetti qua, se avessero un po' di intelligenza, perché non ce l'avete? Intelligentizzatevi! Capite che non ho più bisogno, ad esempio, dello schermo. C'è uno schermo qua davanti gigantesco e me lo vedo solamente in ologrammico digitale. Allora, tutti gli schermi, le televisioni e portate il cellulare. Perché dovrei aver bisogno del cellulare? Apro un visore, vedo i messaggini, vedo i video di YouTube dei gattini e tutte le cose principali che la gente guarda online. L'altra cosa che voglio dirvi è la ricerca. Cambia tutto sulla ricerca, perché? Come per l'audio si cerca di mettersi tra le orecchie delle persone e il risultato finale. Alexa, voglio il detersivo. E Alexa ti dice, compra questa marca qua. E a quel punto la ricerca non passa più da Google, ma passa dai signori di Amazon. Qui la stessa cosa, metto sull'occhialetto e quando sono in giro dico, occhialetto, perché si chiamerà proprio così, io lo chiamerei come brand fissima, occhialetto. Occhialetto, dove è una pizzeria qua? E lui fa, cerca, e mi dà un risultato. Ma quella ricerca non è passata da Google, è passata da Facebook o è passata da Apple. E decideranno poi quale motore metterci sotto. Occhialini, realtà aumentata 2021, teniamoli d'occhio e vediamo cosa esce e come cambiano. Può essere un cambio veramente drastico. Cosa cambierà per noi? Beh, cambierà tutto, perché al posto di guardare i miei video sullo schermo, sul cellulare, metterai l'occhialetto, tranquillo, e mi vedrai comodamente seduto sul tuo divano, che faccio tutte le mie stupidate, e alla fine del video ti porgo la pelata così. Se ti è piaciuto, mi dai la carezza. Se non ti è piaciuto, gli dai una scopola all'ologramma.